Presidente TechNest è un'industria che già sta alla frontiera del 4.0 e questo fa della regione una regione pronta per questa rivoluzione industriale. Più che stare sulla frontiera direi che è un pezzo ormai importante di questa rivoluzione industriale, è un'azienda che ormai ha una forza trentennale sulle spalle e che ha colto immediatamente le grandi potenzialità di Industry 4.0, non solo grandi potenzialità ma che sta accompagnando la crescita anche di altre aziende. Questo è importante perché come non mai in Friuli Venezia Giulia ma direi insomma in tutto il nostro paese abbiamo aziende che hanno bisogno davvero di fare questo salto di qualità e devono essere accompagnate nel farlo da esperti che riescano non soltanto a capirne il processo di produzione ma anche a migliorarlo, ottimizzarlo, renderlo ovviamente ormai rispondente a quelle che sono esigenze sempre più veloce e sempre più forti di un mercato che cambia in continuazione. Quindi un'azienda di cui siamo particolarmente orgogliosi e a cui auguriamo ovviamente una continua crescita.